oggi in maniera semplice vi mostro il metodo che uso io per rimuovere lo smalto servono un paio di dischetti di cotone e dell'acetone io lo uso senza acetone e funziona molto bene vi mostro prima il metodo sbagliato che usavo praticamente io mettevo dell'acetone nel cotone e iniziavo a strofinare sull'unghia strofinando così in maniera circolare o avanti indietro lo smalto non va via perfettamente ma il colore va a finire anche vicino alle cuticole e il risultato è brutto specialmente se si usano degli smalti di colore forte vediamo invece il metodo quello giusto da usare allora versate dell'acetone nel dischetto di cotone appoggiate sull'unghia e lasciate agire qualche secondo pressate per bene dopodiché sfilate via il dischetto verso il basso e come potete vedere in un solo gesto va via tutto lo smalto senza andare a ripassarci una seconda volta in pochi secondi lo smalto andrà via in maniera uniforme a ripassare niente più smalto vicino alle cuticole e il tuo metodo per rimuovere lo smalto qual è scrivimelo pure qui sotto nei commenti da di tutto e di più è tutto e ti aspetto presto al mio prossimo video ciao a tutti